Oggi ragazzi appuntamento incredibile in quanto andremo fare una macchina cattiva mai usata mai rivelata al mondo ok siamo oggi nelle due due doppio quindi la parte cattiva di rocket e ragazzi oggi andremo ad usare lei la magica non so che non so che hitbox abbia perché è nata come è nata da parte di chi è nata penso non lavori più all'interno dell'app psionics però comunque ok ragazzi siamo con kudz contro tank mtx siamo con la nostra gp verde vediamo come si comporta questa macchina ok vai bravissimo si può dire che abbiamo iniziato male un po male diciamolo che abbiamo iniziato male va bene è successo niente quattro secondi si può recuperare benissimo vado io ok buono vai ci sono al centro eh si ma non con queste palle cioè non posso prenderla posso solo evitare il gol ma non segnare di certo ecco io spero nel suo miss ok ti prego beccato ti prego ti prego bravo sono al centro beccato per poco dove sei eh vado io anticipo io qua eh macchina piatta mi sono abituato con l'octane oh no no bravo al centro te l'ho messa al centro me ne vado eh un altro tocco ma ci pensa lui ok se ci pensa lui io tiro qui va bene così vabbè vuoi frate sta palla piccati sta palla e eh vado io vado io vado io prendo lo boost tempo reggio perché tanto non c'è nessuno potrebbe essere una buona azione se tu fossi stato più veloce ma va bene così eh nice oh shit bravo va bene ahia va distrutto eh no qua no non ci va rispondare il suo miss ok non è avvenuto lascia lascia no non mi è piaciuta quella che ho provato a fare il power shot ma completamente oh cazzo ah mi ha anticipato oh bravo non gli scrivo nice one sennò lo sbaglia ora ci scrivo nice one bravo questo mi è piaciuto è stato molto molto bravo siamo 2 a 1 vai tranquilli stiamo giocando bene check the shot l'importante è non subire golle ora no non ce l'ho no eh boost oh c'è boost nice vai no perché prejumpi dovevi solo aspettare cioè non c'è nessuno perché ha prejumpato non l'ho capito qua mi ha fottuto bravo buono che culo vabbè ci sta ok perfetto no ha sorrendato cioè ha forfettato dai esci amico tipo dai esci io ti segno amico te lo dico cioè finchè non esci io ti segno questa è qua pure un minuto ma io ti segno fino a che tu non esci mi sai ragazzi che devo aspettare un minuto io ve lo dico qua bisogna aspettare un minuto si ora ti levi dal cazzo ehm ti potresti levare dal cavolo amico non ci fare perdere un minuto tanto i punti li perdi tu stesso cioè non è che amico ok però se tu esci a posto di scrivermi le cose che non me ne fottu un cazzo dalla tua vita mi potresti fare un piacere grazie ok ok ci siamo ragazzi prima vittoria eseguita ok ragazzi siamo giù champion she failed siamo contro il lord contro ruby let's all e proviamo a vincere anche la seconda io non lo boost cioè ho il boost ma poco ok tiro assurdo ce l'avevo comunque quella dal muro tipo da fare i cazzo di suoi però vabbè andiamo andiamo proseguiamo questo usava quella macchina oscena ma io non posso parlare in quanto ho questa macchina oscena un peccato non ho più boost no troppo forte inutile ah ci va nessuno vai eh non va bene uh li sto vai passamela ce la possiamo fare eh se magari non mi si sbatta la macchina contro il muro e si ferma no al centro la ritocca non la ritocca e là è un problema perché io non so se lui la ritocca non la ritocca se ce l'ha non ce l'ha boost non la boost la missata meno male la missata di nuovo meno male ah e sto dietro eh buono bravo me l'ha lasciato è stato bravo meno male ho detto vabbè ora ci va io non la dirò mai invece me l'ha lasciato è stato molto molto bravo e da prendere il boost ti prego parola bravo sono al centro era difficile va bene uh devo fare il dunk ma ha posticipato il tiro è stato bravo lui oh non ci arrivava non lo so oh devi andarci sei un pazzo non ho tutto questo boost per fare il triple quindi tiro droppa giù perfetta vai eh non c'è ok non ho capito perché ha pre-jumpato però va bene come dice lui io ho sbagliato come la merda ma va bene passa troppo dritto inutile c'è troppo oh oh devi provare a fare cose con la zippie che non dovrei far non dovrei neanche provare a far no no che ti fai superare così veramente amico io non ti posso cadere con questa macchina non riesco vi faccio pure degli errorini quindi se tu mi sbagli ste cose è finita non posso mi dispiace ma non l'ho mai usata questa macchina però ti prego passala soft soft eh ma soft cazzo ok no caccia ho sbagliato quello io non ho boost non ho boost non ho boost eh dai che culo però eh vai tu va bene ok eh era dura era dura cioè se non c'era solo un modo per segnare quella palla stopparla col petto praticamente e godi tecrati al cazzo cioè non ho boost facci bravo ma non è quello mi ha spinto ha dato più solo più confusione quindi non è che mi abbia così tanto rotto le volle va bene non ci credo che schifo eh sono stupido eh sono stato stupido ragazzi vabbè l'abbiamo persa va bene così non era il nostro obiettivo cioè si era era troppo avanti comunque ragazzi sti cazzi ehm vi ho fatto vedere la zippy com'è favolosa non la userò mai più perché non mi piace è anonima onestamente non beh comunque ragazzi se il video vi è piaciuto se non mi piace un commento iscrivetevi al canale condividete il video con lo suo nonno c'è il nostro discord qui della sveglia tutto ah no no aspetta c'è il nostro instagram twitch twitch la live ragazzi alle 15 la live qui della sveglia bella eh io conto da mia sì